Buona la prima per la Castellana, che al ritorno in eccellenza si impone di misura sullo scanso Rosciate. La squadra di Arioli ha giocato con il piglio giusto, sfruttando una delle poche occasioni capitate in una partita avara di emozioni e soffrendo quando era necessario. Alla prima vera chance, al tredicesimo, la Castellana passa, lancio dalla difesa di Roversi e palla per Fai e Pape, che brucia un difensore e beffa in pallonetto Pelati, 1-0. Per vedere la reazione ospite occorre aspettare il trentasettesimo, cross dalla destra di Binetti e spettacolare rovesciata di Bosis, fuori misura. Nella ripresa la Castellana ci prova ancora con Fai e Pape al cinquantasettesimo, imbeccato da Parisio, colpo di testa abbondantemente out. Un minuto dopo risponde sull'altro fronte Capelli, rasoterra velenoso, ma Lancini è sulla traiettoria. Ben più difficile, per l'estremo biancazzurro, la parata salva risultato dell'ottantaduesimo. Rossetti dal fondo pesca in area Bosis, chi di testa costringe il numero uno di casa ad un intervento strepitoso. Dopo aver concesso quest'unica grossa chance, la Castellana serra i ranghi e bada al sodo. L'ultimo brivido al novantatreesimo, crema svirgola, Capelli finisce a terra in area, ma l'arbitro fa proseguire. Sul ribaltamento di fronte, David Taiba fa tutto da solo, ma non inquadra allo specchio della porta. Finisce dunque 1-0, miglior ritorno in categoria per la Castellana non poteva esserci.